Un'altra croce sulle strade. L'ennesimo incidente mortale è avvenuto mercoledì 4 gennaio sulla provinciale 34 sul territorio del comune di Arconate. Verso le 14.15 un motociclista si è schiantato con la sua Kawasaki contro una Opel che era appena uscita da un autolavaggio. Ad avere l'appeggio è stato naturalmente il motociclista, un ragazzo di 24 anni residente a Busto Garolfo. Caduto a terra, il giovane ha riportato traumi che sono risultati incompatibili con la vita. Soccorso da una squadra del 118, il ragazzo è stato trasportato in emergenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Nonostante gli sforzi, non è però stato possibile salvarlo. I carabinieri si sono occupati di eseguire rilievi che saranno indispensabili per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.